L'appuntamento a Canzano con il quarantesimo campionato italiano di lancio della Ruzzola vede la partecipazione al popolare gioco di strada di tanti appassionati da tutta Italia. Intanto spieghiamo cos'è. La Ruzzola è il lancio del cosiddetto formaggio, un disco di legno che ha la forma di una pizza di pecorino. Veniva fatto nell'Ottocento, tra origine e dall'Ottocento, ed è stato mano a mano tramandato nel tempo. Fa parte dei giochi tradizionali ed è un campionato molto sentito in molte regioni italiane. Infatti Canzano, in collaborazione anche con il comune di Montori, su cui si svolgeranno le prove preliminari, diventa il centro di questo campionato nazionale che porterà turismo e persone da tutta Italia e faranno conoscere i nostri territori. L'appuntamento interessa sia il comune di Canzano che quello di Montorio? Sì, le autorità taglieranno il nastro alle 9.30 a Montorio. Le premiazioni si svolgeranno a Canzano il giorno 31 luglio. I campi di gara sono le strade provinciali del comune di Montorio e del comune di Canzano. Quindi si svolgeranno sulle strade dei paesi.